Nessun colpo di scena, nessun miracolo all'ultima curva. Il Palermo perde a Venezia e saluta questo campionato. Finisce qui la corsa nei play-off per il rosa-nero di Mignani, esclusi così come il Catania. Entrambe le formazioni siciliane lasciano e si proiettano già al prossimo campionato. Buongiorno a tutti, questo è Goal Inside, oggi è il 27 maggio. Introduciamo subito la puntata con questo piccolo video. Oh no! Mamma mia! Lo vedete, game over. Buongiorno Mirko Valenti. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora salutiamo quest'oggi i nostri altri ospiti partendo da Nadia Lamalfa. Buongiorno, buongiorno. Ciao Nadia. Grazie a Enzo dell'invito. E poi passiamo ad Antonio Larosa. Ciao Antonio, buongiorno anche a te. Buongiorno a voi, grazie sempre dell'invito. Buongiorno a tutti. Abbiamo detto di questo game over una conclusione di stagione che insomma si poteva aspettare. Di sicuro è il risultato finale di una stagione abbastanza tribolata in cui i rosa-nero non hanno avuto costanza. Ci sono stati tanti problemi. Abbiamo visto in panchina susseguirsi due allenatori. Non è stata di certo una stagione semplice. Si guarda già al futuro, però Antonio c'è qualcosa da dire. Partiamo da te a proposito di questa ultima partita con il Venezia. Potremmo dire epilogo deludente di una stagione deludente. Possiamo dire che è stato praticamente un epilogo in linea con quello che è stato l'andamento un po' della stagione che è stata nettamente al di sotto delle aspettative. È chiaro, c'è stato una semifinale play-off, però bisogna capire anche come la squadra è arrivata poi ai play-off. È arrivata in sofferenza, è arrivata praticamente senza certezze, con pochi punti di riferimento e ha affrontato obiettivamente una squadra più forte. Infatti, secondo me, questa è un po' la premessa che bisogna fare. Si è qualificata la squadra veramente più forte, più strutturata, più solida. Probabilmente, anzi, certamente, più pronta mentalmente ad affrontare un certo genere di partite. Tu puoi anche poi preparare, impostare la partita in un certo modo. Poi c'è un episodio che scompaggia nei piani. A proposito di questo episodio, mi riferisco ovviamente al gol di Tesman al quarto minuto. Si tratta addirittura del quattordicesimo gol da fuori area, subito dal Palermo in questa stagione. Secondo me, sono dei numeri che anche impongono delle riflessioni. Il problema è che il Palermo, sia in una partita col Venezia, ma anche nel corso della stagione, ha faticato tremendamente a spostare gli episodi dalla propria parte. Per mancanza di carattere, mancanza di personalità, per mancanza forse anche di una struttura tecnica necessaria per poter poi legittimare le proprie ambizioni. Purtroppo è andata così, ha affrontato una squadra più forte, un Venezia che ha corso di più e meglio rispetto al Palermo. Senti Nadia, io vado diretto al punto. Brunori ha parlato alla fine della partita, insomma le dichiarazioni poi sono state riportate, hanno creato un po' di panico nella tifoseria rosa-nero. Lo sappiamo, è stata una stagione abbastanza difficile, ma io quello che ti chiedo è quanto è difficile per un giocatore o anche per un allenatore, chissà, giocare ed esprimersi a Palermo. Guarda, la piazza è chiaro che è esigente, però è chiaro che il pubblico del Palermo è una delle migliori tifoserie d'Italia. Io mi ricordo una delle dichiarazioni di Foschi, intanto ti ringrazio per avermi fatto ritrovare un collega con cui abbiamo condiviso dieci anni al Corriere dello Sport e quindi è un immenso piacere per me ritrovare Antonio Larosa, abbiamo conosciuto insieme e quindi purtroppo però amaramente mi ricordo i tempi belli, perché con Antonio abbiamo vissuto gli anni belli della Serie A, gli anni di Guidolin, Palermo-Inter, insomma i gol spettacolari, i giocatori che sono diventati campioni mondiali, quindi vedendo quel calcio io ho sempre un po' di nostalgia, quindi è chiaro che questa stagione io l'ho vissuta anche, è chiaro che non vivendola professionalmente, l'ho vissuta da dipose, quindi ovviamente condivido l'analisi fatta da Antonio, che è il frutto di una stagione assolutamente deludente, più nera che rosa, perché è una squadra ovviamente che non era attrezzata anche dal punto di vista offensivo, se non legata a delle qualità poi dei singoli, perché dal punto di vista proprio strutturale purtroppo ha fatto ravvisare qualche gap. E' chiaro che il Venezia era più forte, ci abbiamo sperato, perché se si fosse comunque realizzato una vittoria era chiaro, era un miracolo, perché dal punto di vista poi squisitamente tecnico è chiaro che il Venezia era decisamente più forte e quindi che meritava. Quanto alle dichiarazioni a cui tu fai riferimento, io credo che siano state assolutamente strumentalizzate, perché tornando appunto a quanto diceva Foschi, che mi ha portato appunto a rivivere quel passato con Antonio, Foschi diceva, io che aveva sempre, noi dicevamo sempre, ma perché non prendi dei giocatori di Palermo che comunque la loro piazza sono più motivati, sono più stimolati? E lui diceva sempre sì, però i giocatori del Palermo non riescono a reggere la piazza, perché poi la tensione comunque è sempre troppo forte e può in qualche modo inficiare le prestazioni, cosa che secondo me non era assolutamente vero, perché comunque la piazza di Palermo è davvero il dodicesimo uomo in campo e fa la differenza. Quanto alle dichiarazioni di Brumori sono state assolutamente strumentalizzate, di fatto sta infatti che Carrozzieri è intervenuto dicendo che non meritava assolutamente la difoseria questo atteggiamento, perché Brumori, lo diciamo, ha detto che la tensione poi è troppo forte. E tra l'altro la regia, mentre tu parli, Nadia, può mandare anche in onda proprio una immagine che riguarda questa dichiarazione di Carrozzieri, o meglio questo era il titolo, così come è stato titolato, puoi andare avanti assolutamente, Nadia. E quindi diceva, è chiaro che intanto io faccio un plauso speciale a quei 300 difosi che nonostante la sconfitta, nonostante aver, diciamo, visti sfumare la vittoria e comunque la promozione in Serie A del Palermo, sono rimasti là e hanno applaudito la squadra. Credo che questo sia il segnale, che la difoseria comunque nel bene e nel male sta sempre dalla parte dei giocatori, dei calciatori. È chiaro che nella stagione si possono comunque ravvisare delle delusioni, è successo perché un Palermo che comunque rimedia otto sconfitte in casalinghe, e correggimi se sbaglio Antonio, compreso i pre-off, è chiaro che sono numeri da brivido. È da tempo che deve dare. Il fattore campo deve fare la differenza, quindi se tu perdi per otto volte in casa è chiaro che questo, insomma, ai difosi può dare anche abbastanza fastidio. Assolutamente. Io, tornando a Carrozzieri, insomma, poi ovviamente sul web si è scatenato l'inferno per queste dichiarazioni, e Mirko, bidoni rosa nero, ecco, i nostri amici che fanno tante belle cose, simpatiche, abbiamo anche una fotografia, ha parlato e ha criticato le parole di Brunori, scrivendo poi, lo vedete, Brunori chi, mostrando una serie di fotografie a cui Nadia, ecco, infatti, Nadia, non si può tenere. Mi pare follia. Brunori, cancellato, insomma, in paragone con chi? Con Pastore, Miccoli, Di Bala, io vedo lì. È chiaro che hanno fatto la storia, però direi che Brunori chi, diciamo, ha dato un contributo importante. Insomma, è anche un po' troppo, comunque, dico, Brunori sui 50, Antonio, il database, 50, quanti ne ha fatti? Sono 63, comunque è al secondo posto nella classifica, il time dei marcatori. Brunori, che se ne possa dire, rimane uno dei più grandi e ha sfiorato quasi Fabrizio Miccoli, un certo Fabrizio Miccoli. No, Mirko? Brunori è... Stagione comunque importante, al di là poi di come andrà a finire, non so se andrà via, secondo qualcuno ha letto nelle sue dichiarazioni un arrivederci. Potrebbe anche essere che Brunori cerchi un altro Lido dove andare a giocare. Sicuramente è stato un giocatore importante, ha fatto tanti gol, ha contribuito tanto alla causa palermitana. Sulle dichiarazioni non commento. Perfetto, benissimo. Allora, facciamo commentare Antonio Larosa, però, su un altro discorso. Io, tra l'altro, riparto da alcuni messaggi, ad esempio quello di Toni, che scrive, la cosa migliore della serata dopo Venezia è la consapevolezza che parecchi di loro non indosseranno più la nostra maglia. Poi Angelo scrive, per il prossimo anno puntiamo su Segre, Diachite e il mitico dottor Matracia. Vabbè, insomma, questo è da vedere. Squadra scarsissima, giocatori mediocri, unica cosa bella della stagione, il centro sportivo a Torretta. Chiedo alla regia anche di mostrare una delle ultime formazioni che sono scese in campo nelle ultime settimane, proprio in occasione dei play-off, quindi con Mignani. E Antonio, ti faccio la domanda più semplice, sicuramente, di questa squadra che vedi qui. Chi ti aspetti che il Palermo la prossima stagione confermerà? È una foto che stiamo per vedere, comunque, insomma, anche se non la vediamo, sicuramente tu hai, eccola qui, un'idea ce l'hai sicuramente. Chi terresti di questi per la prossima stagione? Intanto, comunque, bisogna dire che ci sono dei parametri in base ai quali possiamo già individuare, no, a bocce ferme, quelli che possono essere dei punti fermi del nuovo Palermo. Esatto, sì. Parametri come l'età, per esempio, la durata del contratto, o anche l'entità dell'investimento che è stato effettuato dalla società. E a questo proposito mi riferisco in particolare a Ranocchia, no, per esempio, che è arrivato a gennaio a titolo definitivo, legandosi al Palermo fino al 2028. L'acquisto parla da sé, cioè, significa proprio che è un giocatore che gode della fiducia, ovviamente, della considerazione della società e fa parte dei programmi futuri. Mi risulta che anche Segre, no, pur avendo un contratto fino al 2025, comunque è un giocatore futuribile per il Palermo, e, insomma, base nell'informazione di mio possesso, comunque è a buon punto la trattativa per il rinnovo contrattuale di questo contratto che scade nel 2025. E poi c'è Gomez, per esempio, che è un giocatore con il Marchiosini, di un classe 2000, che certamente fa parte del Palermo del futuro, e poi anche di Akite, in difesa, Lund, che è un giocatore appunto futuribile. Questi, secondo me, sono già dei punti fermi. E poi, insomma, ci sono anche dei giocatori con il contratto in scadenza nel 2025, a prescindere da Segre, insomma, merita i quali. Poi la società deve prendere una decisione in tempi rapidi, deve capire come procedere, se proporre un adeguamento, un rinnovo contrattuale, oppure trovare una soluzione sul mercato, pensando magari di monetizzare la cessione, evitando, scongiurando il rischio di arrivare a scadenza di contratto. Ci sono Lucioni, Nelcearu, Piacelli, anche se però ha un'opzione di rinnovo, c'è Di Mariano anche, fino al 2025. Quindi questi sono dei nodi che andranno sciolti poi in tempi rapidi. Ma chi vi ha deluso di più in quest'anno? Parto da Mirko, poi vado a Nadia, come giocatori. Lo so. Lo sai? Ti vi ha deluso di più? Forse Antonio vuole aggiungere... No, no, no. No? No, no, sì, io dico Insigne, però scusate. Ma perché c'era un'aspettativa più alta, no? Rispetto alle aspettative, ci si aspettava che fosse, diciamo, il grande colpo di mercato, e invece poi ha deluso rispetto a me. Ecco, perché poi io mi chiedo, cosa accade a questi giocatori che l'anno prima, io ritorno sempre a discutere di Di Francesco, che arrivava dalla Serie A, poi abbiamo avuto anche un altro discorso, e anche lo stesso Insigne. Mirko, la piazza pure può influenzare un campionato del genere o non c'entra nulla? Secondo me la piazza può influenzarla in maniera molto marginale. Insigne sicuramente è stata una grandissima delusione quest'anno. Non so se è per colpa sua, per colpa della preparazione, per colpa di come è stato messo in campo, però sicuramente il più deludente della stagione è Insigne. Allora, fra gli altri messaggi, non so se volevi aggiungere qualcuno che ha deluso particolarmente. No, no, condivido, però è chiaro che poi, diciamo, trovare un capo espiatorio mi pare assolutamente ingiusto, perché Insigne si ha deluso, ma tutta la squadra ha deluso. Infatti, secondo me, l'imperativo della prossima stagione è rivoluzione. Cioè, secondo me, di questa squadra resteranno veramente in pochi, perché comunque l'investimento, so che è stato importante, si parla di 40 milioni di euro messi in bilancio nella società, e quindi è chiaro che di fronte all'investimento del genere ci sarà un mercato assolutamente, ovviamente attrezzato per puntare all'obiettivo che è quello della promozione in Serie A. E si partirà, secondo me, anche dall'allenatore. Io non so se Migliani resterà, credo proprio di no, Antonio conferma, però secondo me non ha un contratto fino al 2025, però la rivoluzione, credo che passi proprio dal cambio in panchina, seguirà, credo, pure quella di Rinaudo, anche lui direttore sportivo, quindi credo che davvero l'imperativo sia rivoluzione. E allora, gli sfoghi ci stanno, scrive Salvo, lo dice uno che vive a Parma da 20 anni, gli ultimi tre si sono ammalati al fegato nonostante i tantissimi soldi spesi al loro presidente, il risultato Serie A raggiunta solo quest'anno, quindi ci dice programmazione, lungimiranza e pazienza. Il City non aveva detto che dopo due anni il Palermo sarebbe salito in A, aveva anche parlato della cifra, il tre, il terzo anno, può essere, no Antonio? Non lo so, dico comunque... Però quest'anno comunque a proposito di programmazione ci si sarebbe aspettati qualcosa di meglio, no? Sì, e penso anche i dirigenti del City Group sono i primi, no? Che si aspettavano qualcosa in più, non hanno mai parlato... Non vorrei che l'anno prossimo si dovesse riprogrammare di nuovo tutto dall'inizio. Non hanno mai sbandierato la parola Serie A, assolutamente, però è chiaro che hanno detto sempre che comunque il Palermo doveva arrivare tra i primi quattro posti, cioè loro hanno fatto di tutto per allestire un organico competitivo per poter lottare per la Serie A. Una cosa è cercare di lottare per la Serie A, una cosa è dire ammazziamo il campionato, anche perché il calcio, sappiamo, non è una scienza esatta e nessuno ha la formula magica. Ricordiamo anche che comunque il mercato del Palermo è stato un mercato importante, quello della scorsa estate, con giocatori, appena il Palermo ha acquistato determinati giocatori, ci siamo anche congratulati, in generale i tifosi con i dirigenti per anche lo spessore tecnico dei giocatori. Anche lo spessore Anocchia di Achite, a gennaio l'intervento è stato, sembrava importante. Assolutamente sì, quando è arrivato appunto in signe, in estate, vi ho detto un grande giocatore, reduce dalla promozione col Frosinone, peraltro giocatori abituati a vincere come Luciani, eccetera. Poi il problema è che bisogna poi creare i presupposti giusti, anche a livello ambientale, bisogna poi cercare di creare le premesse per determinare, no? Dei incastri favorevoli che non si sono verificati. Nadia, questo video è dedicato a te. Addirittura. Sì, no, vabbè, nel senso parlavamo di Amarcord, parlavamo di bei, vecchi tempi. Ah, quindi ci puoi sentire ancora più vecchi. Sì, lo siamo tutti, non ti preoccupare. Guardiamo questo video, facciamo un tuffo nel passato e poi torniamo qui. ...ificati Barzelli e Barone, al loro posto Terlissi e Mutarelli, al settimo subito scintile tra Zaulio e Araonica che vengono poi ammoniti da Pieri. Unizione di Corini, qui blocca Storari. E andiamo al nono, a fondo e cross di Iliev, Zampagna sbaglia tutto, scelta di tempo e l'esecuzione, vedete come colpisce, proprio sotto la curva dei 1200 tifosi del Messina, tafferuli e scontri con le forze dell'ordine ma senza gravi conseguenze. Poi tutto è tornato nella normalità all'inizio del secondo tempo. Mutti schiera a Zorò per Giampà e subito poi il Messina con D'Agostino, diagonale rispinto da Guardabene e poi chiuso da Terlissi. Al settimo angolo di Corini, la palla a filtrinare, entra Zaccardo e Palermo in vantaggio proprio nel momento migliore del Messina. Secondo gol di Zaccardo e Storari battuto dopo 328 minuti. Punizione di D'Agostino, Zampagna, che lotta come un leone, sveta e infila l'angolo. Meritato pareggio del Messina al 24esimo del secondo tempo, ottavo gol di Zampagna in campionato. Ma al 32esimo su cross di Zauli, Toni con rabbia e potenza riporta il Palermo in vantaggio e sono 14 gol di Toni in campionato. Bellissima la rete, gol pesantissimo che decide l'incontro ed è fondamentale per il cammino verso l'Europa del Palermo. Vediamo ancora la prudezza di Toni. E Palermo che poi resta in dieci per l'espulsione di Corini al 37esimo trattenuta su di Napoli e piedi estrae il secondo cartellino giallo. Allora, scendono le lacrime tra l'altro di Nadia Lamalfa che è nata a Milazzo quindi sicuramente ti favi per il Messina quel giorno. Guarda veramente venire alla nostalgia perché c'avevo il Palermo che comunque ormai è palermita nata ad ozione ma c'avevo il Messina io sono milazzese quindi per me Messina e c'era anche il Catania quindi per me il mio sogno è rivedere comunque a prescindere poi da ragioni di campanilismo vedere queste tre squadre siciliane in Serie A me lo auguro di rivivere quei momenti ne parlavamo solo tanti momenti nostalgici che abbiamo vissuto e ho rivisto addirittura settimana scorsa Zauli ragazzi Lamberto Zauli uno dei giocatori più forti e più eleganti secondo me nella storia rosa nero lo posso assolutamente dire quindi è una settimana insomma è un fine stagione di Amarcord possiamo dire così e la possiamo svelare questa cosa Zauli doveva essere quest'oggi qui con noi però l'invito è saltato avevamo anche la magliettina di Zauli caro Mirko e là sarebbero scese le lacrime veramente perché la promozione in Serie A del Palermo insomma Palermo-Trestino ci abbiamo provato Nadia Lamalfa Palermo-Catania-Messina in Serie A sarebbe bello il Catania però in Serie B ci stava quasi insomma sognando di arrivare è mancato poco alla larga no Mirko? sì assolutamente Catania purtroppo contro l'Avellino è stato eliminato dalla corsa playoff un Catania che è in campionato sicuramente poteva fare di più tra le squadre che si sono salvate è quella che ha subito più sconfitte con 17 sconfitte in 38 partite è arrivato ai playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia quindi primo turno testa di serie supera l'Atalanta Under 23 con un pareggio nel doppio scontro purtroppo con l'Avellino anche con un pareggio nel doppio scontro viene eliminato perché l'Avellino era superiore in classifica però grande chance sei in vantaggio alla fine del primo tempo dopo il vantaggio della partita l'Avellino ha fatto quello che secondo me doveva fare il Palermo doveva recuperare ha giocato concentrato in attacco ha messo dentro il potenziale offensivo migliore che potesse avere e l'ha portato a casa sentiamo Zeuli un minuto il tecnico del Catania adesso ritorniamo in noi e dico io sono straorgoglioso di quello che hanno fatto vedere i ragazzi tanti di questi ragazzi hanno capito cosa significa vestire questa maglia due mesi fa tanti di loro venivano criticati attaccati forse neanche le mogli li volevano a casa e invece sono contento orgoglioso ma lo dico col cuore perché adesso è la società più possibile di scelta per l'anno prossimo sono contento perché siamo venuti qua ad Avellino nonostante mi scuso con i colleghi di Avellino con i giornalisti di Avellino ma non sono presenti perché li conosco in volto la squadra oggi era carica perché ci avevano dato degli scadenti degli scarzoni e non degni di partecipare a questi playoff e la squadra ha fatto leva anche su queste motivazioni perché poi a Catania se qualcuno ancora non l'ha capito a Catania la squadra di calcio rappresenta la città la società e dunque è come offendere anche altre persone di questo io sono straorgoglioso ci siamo andati vicino e niente Zeoli che tra l'altro si è anche commosso davanti a dei colleghi durante un'intervista Zeoli che è stato quello che ha dato comunque una fisionomia migliore rispetto ai precedenti tecnici parliamo di Tabbiani e Lucarelli no Mirko? sì, sicuramente Zeoli è quello che ha messo la squadra meglio in campo anche motivata di più a prescindere dal fatto che la Coppa l'abbia vinta lui perché è arrivato per ultimo nella storia di questa stagione però secondo me Zeoli è un ottimo allenatore che può fare bene può portare il Catania anche l'anno prossimo a cercare la promozione o diretta tramite playoff quindi Zeoli è assolutamente promosso per questo si meriterebbe una conferma sì, secondo me assolutamente sì perché comunque abbiamo visto appunto che nei vari cambi di panchina il Catania non ha mai avuto quello sprint in più mentre con Zeoli ha trovato un gioco abbastanza quadrato ha trovato anche delle belle personalità come Cianci che ha segnato sia l'altra che il ritorno con l'Avellino quindi secondo me Zeoli è assolutamente da confermare e allora il radiomercato ancora non ha aperto però insomma già ci siamo quasi durante il servizio Nadia e Antonio parlavano ma come è questo Zanelli Zanetti Zanetti ha ottenuto la promozione e parliamo insomma gira la voce di questo tecnico per il futuro della panchina del Palermo è un nome caldo certamente ha ottenuto la promozione con la guida del Venezia nel 2021 c'erano anche Ceccarone di Mariano in quella squadra ha fatto bene a Empoli anche se comunque l'esperienza è stata culminata con un esonero un allenatore che certamente comunque è in grado anche di lasciare un segno un'impronta un gioco propositivo quindi è un profilo adatto anche al modello City e poi c'è anche una suggestione Pippi Inzaghi in questo momento bisogna ovviamente ancora come ho detto bene tu il radiomercato ancora non ha aperto i tempi ancora non sono maturi però certamente ci saranno dei giorni di riflessione e poi bisogna anche prendere una decisione comunque anche in tempi rapidi perché ricordiamo che il ritiro comincia il 7 luglio Nadia Zanetti Pippi Inzaghi chi è che ti piace di più e poi chiudi intanto Zanetti magari fosse quel Zanetti che poverino si è infortunato a Palermo rimediò il più grande infortunio credo della sua carriera al di là della chiosa ironica ma si parla anche di Dionisi si parla anche di Grosso Grosso che ovviamente è stato già contattato ma ha declinato l'invito ad aprile è una suggestione anche questa sempre uno che ha fatto la storia del Palermo e quindi la storia a Rosa Nero io mi auguro che venga un allenatore che metta davvero grinta spirito battagliero a questa squadra perché secondo me è l'anno giusto a prescindere anche dall'investimento che ha fatto il Sidi però dicevamo il Sidi non ha dato la certezza nel senso ha detto stiamo costruendo la squadra per la Serie A però è chiaro che com'è nella mentalità nella cifra di questo gruppo è chiaro che l'obiettivo è la Serie A non sarebbero venuti a Palermo e non avrebbero investito se non avessero avuto questo obiettivo di lungo termine quindi secondo me la Serie A prima o poi arriverà credo che questo appunto se si rivoluziona la squadra e si dà questo imprinting davvero combattivo di unicità e si struttura meglio la squadra secondo me può competere decisamente per questo obiettivo prestigioso assolutamente vedete la bella festa dietro i vostri monitor al Renzo Barbera per questa puntata è tutto poi ci troverete in altri formati naturalmente con Goal Inside gli appuntamenti continuerete a vederli a leggerli sulle pagine sui social quindi anche su Instagram e Facebook nella pagina Sport16 io ringrazio Mirko Valenti grazie Mirko grazie a te buona giornata grazie Nadia la malpa grazie a voi grazie a voi e grazie Antonio Larosa grazie a te per la vostra presenza grazie sempre per l'invito grazie a tutti buon proseguimento sul nostro canale